Roma di giorno, le notizie della Capitale, con Elisa Mariani. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Roma di giorno, lo spazio dedicato all'approfondimento giornalistico sulle principali notizie di attualità e cronaca della Capitale. Per i 2.500 lavoratori e lavoratrici di Roma Multiservizi torna l'incubo dell'instabilità. In sostanza a Roma Multiservizi Adama costa troppo e dunque la Corte dei Conti ha bocciato Roberto Gualtieri. Una decisione che ha inevitabilmente scatenato anche reazioni politiche. Vogliamo leggervi cosa hanno scritto in una nota i gruppi consigliari capitolini del Movimento 5 Stelle e della lista civica Raggi. Sin dall'inizio l'ingresso di Multiservizi Inama, voluto dalla maggioranza, mostrava evidenti criticità. Parliamo non solo della tardiva notificazione alla stessa ama della volontà di compiere l'acquisizione, ma soprattutto del fatto che con la nuova operazione gli utili della società deriverebbero unicamente da Roma Capitale. Puntualmente la Corte dei Conti ha bocciato in toto l'iniziativa di Gualtieri. I problemi finanziari della partecipata, ha scritto la Corte, hanno un potenziale impatto di 13 milioni, a fronte di un patrimonio netto di 6 milioni. Rilevando un rischio di liquidazione giudiziaria, i giudici non usano mezzi termini nel definire questa acquisizione come incoerente rispetto ai principi di necessità e sostenibilità finanziaria. Ora però c'è un altro problema, forse anche decisamente più grave, quello del destino appunto dei 2.500 lavoratori e lavoratrici di Roma Multiservizi. Cerchiamo di fare un punto soprattutto su questa questione che è particolarmente preoccupante per i sindacati che hanno chiesto un incontro urgente e definitivo proprio con Roberto Gualtieri. Quindi do il mio benvenuto all'ospite in collegamento video che mi aiuterà oggi a fare un punto della situazione, Stefano Diociaiuti, segretario generale Fisaskat CISL Roma Rieti. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei e i suoi ascoltatori. Grazie per la sua disponibilità. Dunque possiamo cercare di fare un punto di questa situazione, un piccolo riassunto, partendo dalle tappe decisive. Ma intanto se mi permette cercherò di fare un po' chiarezza. La Corte dei Comuni ha espresso parere negativo, sottolineando che dall'analisi della documentazione resa disponibile dal Comune di Roma vi sono delle anomalie nei rapporti commerciali con le parti correlate, quindi Roma Capitale e le società partecipate. Risulterebbe, quindi, penalizzata a livello finanziario da un insieme di fattori che possono, in generale, squilibri di cassa derivanti dalle mercate in cassa e in particolare quello che faceva riferimento al comunicato del Movimento 5 Stelle è il credito vantato nei confronti di ADAC in procedura concursuale che si aggira circa di 13,6 milioni di euro. Ora, il problema è che probabilmente, intanto noi attendiamo un po' quello che sono le specifiche e le risposte del Comune di Roma alla Corte dei Conti rispetto alle criticità esposte. ma l'impressione che abbiamo è che non vi sia stata fatta una fotografia effettiva, completa e attenta di quello che è il mondo di Roma a molti servizi, perché ha una sua complessità di prestazioni, ma anche di ritorni economici, ma anche di ritorni sociali rispetto alla vita quotidiana del Comune di Roma. In particolare mi riferisco al fatto che il Global Service, l'attività dei lavoratori, non è solo incentrata solo e esclusivamente sulla parte delle pulizie delle scuole comunali, ma c'è tutta un'attività che è, come posso dire, circolare all'attività principale che comunque fa reddito, che comunque deve essere presa in considerazione. Prendo per esempio i pulmini del trasporto dei ragazzi da casa a scuola. Quindi crediamo che nelle risposte che il Comune possa dare alla Corte dei Conti ci sia una spiegazione un pochino più attenta e che comunque riesca a disinnescare, perdonate il termine, un po' di criticità che la Corte dei Conti sta esprimendo. L'altra cosa che mi preme dire è che non è chiuso, anzi, è tutt'altro che è chiuso. Siamo convinti che si riesca a risolvere e a chiarire delle posizioni che rispetto alla documentazione avviata ci siano ulteriori integrazioni. Certo. Qual è il rischio maggiore per questi 2.500 lavoratori e lavoratrici? Bella domanda. Il rischio è che si torni indietro e si riapra alla possibilità della gara doppio oggetto e quindi del consorzio CNES che ha fatto anche ricorso, su questo bisogna dirlo, e quindi che ci sia un rischio di una frammentazione anche dell'appalto in termini di operatività ma anche di economia rispetto a quelle che sono. È una prestazione unica, quindi dividere l'appalto o comunque l'attività per municipio o per lotti credo che sia devastante da un punto di vista organizzativo ma io credo anche economico. Certo. La decisione che è stata presa dalla Corte dei Conti è stata definita come un fulmine a ciel sereno ma la mia domanda è questa. Veramente nessuno aveva creduto che questa ipotesi potesse poi verificarsi? Cioè veramente possiamo definirla come un fulmine a ciel sereno? Allora, io credo che quando ci siano queste situazioni è tutto, come posso dire, probabile che ci siano delle considerazioni anche negative. Quindi non credo che si aspettasse la porta aperta sulla procedura che è stata avviata dal Comune di Roma. Ma la stessa strepa credo che comunque sia doveroso da parte della Corte dei Conti sottolineare delle criticità. È obbligatorio da parte del Comune di Roma dare quelle risposte che la Corte dei Conti chiede. Quindi credo che sia nel dibattito tecnico ma anche politico naturale della nostra attività che si fa quotidianamente. Non vedo qual è il problema se effettivamente poi vengono attivate tutte quelle procedure e vengono date integrazioni rispetto a quelle felicità mosse dalla Corte dei Conti che è tutto insomma ragionabile. Certo, voi avete chiesto tutti i sindacati, tutte le sigle sindacali maggiori di Roma e del Lazio, avete chiesto un incontro urgente con il sindaco Roberto Qualtieri. Avete ricevuto dei riscontri, vi sono state date delle risposte per il momento? Siamo in attesa. Siete in attesa di risposte. Prego. Leghiamo come intendete muovervi. Sollicitiamo il Comune a dare quelle risposte alla Corte dei Conti, sollecitiamo il Comune anche a dare una risposta politica alle decisioni prese, sollecitiamo il Comune anche a convincere quelle persone che sono poco convinte di questo percorso, perché creare una società in house per un'attività del genere credo che sia così tanto doveroso, ma tanto come il ritorno e il feedback di ritorno rispetto all'attività che fanno nei confronti della cittadinanza di Roma. Quindi siamo convinti che probabilmente ci vuole un po' di tempo in più, ma siamo convinti della bontà e della procedura messa in piedi, ma anche dei risvolti economici, ma anche prestazionati che avrà nei confronti della cittadinanza. Quindi attendiamo con ansia, ma anche con fiducia rispetto a queste criticità che sono state sollevate dalla Corte dei Conti. Dove sia anche un giusto, mi perdoni, strumentalizzare delle scelte, delle comunicazioni ora della Corte dei Conti. Attendiamo un po' l'iter e la fine di questa procedura. Ovviamente, certo, noi in questo spazio cerchiamo sempre un pochino di fare chiarezza. Dottor Diociaiuti, allontanandoci un pochino da questa questione, voi sindacati avete ovviamente sempre a cuore il destino dei lavoratori, è quello il vostro compito principale. Le chiedo in maniera generica, com'è la situazione lavoro in questo momento a Roma? Siamo un po' in direzione di miglioramento o comunque ci sono ancora delle criticità evidenti in tanti settori? Per quanto riguarda la parte turistica delle aziende alberghiere, quello che abbiamo vissuto nella pandemia, cioè dalle chiusure forzate, alle strumentalizzazioni anche delle vendite di edifici alberghieri per fondi sconosciuti stranieri, non ha oggi ricreato quella occupazione che ci aspettavamo. Cioè in termini turistici effettivamente c'è stato un boom nell'ultimo anno, ma che non ha dato quello che effettivamente ci si aspettava, occupazione, in verità no, non è così. Per quanto riguarda il commercio, anche questo, faccio solo un esempio, la stazione Termini che è un biglietto da visita, a mio avviso, sia turistico ma anche commerciale di Roma, ma anche d'Italia, vive di una insicurezza sia per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini ma anche dei dipendenti delle attività commerciali che spesso, a seguito di vicende note, decidono anche di chiudere l'attività per non avere nessun altro problema. Quindi probabilmente avremo bisogno di un'attenzione differente su quello che è il mondo occupazionale di Roma perché sta vivendo un forte stress. Certo, ma soprattutto mi permetto di dire che forse bisognerebbe velocizzare un pochino i tempi perché ritorniamo sempre alla stessa questione, mancano due anni al giubileo 2025 che è l'evento più importante per Roma, anche per tutta Italia, per il mondo e quindi Roma è ancora molto indietro sotto questo punto di vista, forse. Le faccio un esempio che è probabilmente banale e stupido. Il 90% dei turisti che vengono a Roma rimangono a Roma. Tutto quello che è, da un punto di vista archeologico, turistico, marittimo, che presenta anche la provincia di Roma, non viene assolutamente visto. Ora, questo c'è bisogno di un po' di buonsenso, di mettersi tutti seduti sul tavolo e fare e progettare quello che è, a mio avviso, nel nostro DNA. Fare delle proposte turistiche, economiche e di ricezione che probabilmente abbiamo, ma o per scarsa volontà o probabilmente per scarsa volontà politica ancora non abbiamo fatto. Certo, e che aiuterebbero comunque, ritorniamo sempre lì al discorso dell'occupazione. Bene, io la voglio ringraziare veramente di cuore, dottor Diociaiuti, per averci fatto una panoramica della questione Roma Multiservizi. Staremo ad attendere ulteriori sviluppi e magari ci risentiremo nel corso di nuovi aggiornamenti. Grazie ancora. Grazie a lei e buon lavoro. A presto. Ci fermiamo nuovamente per un piccolo momento di pausa. Torniamo tra pochissimi istanti per parlare del trattamento meccanico-biologico di Tordicencia che sta facendo molto discutere. Restate con noi. Ben tornati a Roma di giorno, lo spazio dedicato all'approfondimento giornalistico sulle principali notizie di attualità e cronaca del Capitale. Da giorni tiene banco la notizia della chiusura anticipata del trattamento meccanico-biologico di Rocca Cincia. Un qualcosa che è stato definito storico dal sindaco Roberto Gualtieri proprio l'altro giorno in Consiglio Comunale. Ieri sera però è emersa un'altra notizia, cioè che la chiusura di questo TMB di Rocca Cincia in realtà sarebbe stata presa da Ama perché non rispetterebbe i parametri di inquinamento. La notizia è emersa in particolar modo nel corso di Extra, il programma che va tutte le sere in onda alle 21, proprio qui su Radio Roma Television, con il nostro direttore Claudio Micalizio. E proprio lui oggi ci aiuterà a capire meglio la situazione, a fare un punto della situazione. Quindi do il mio benvenuto in collegamento video al nostro direttore Claudio Micalizio. Buongiorno direttore, è un piacere per me averla qui. Buongiorno Elisa, una saluta a tutti i tuoi ascoltatori, bentrovati. Grazie per la tua disponibilità. Dunque la prima domanda che ti faccio Claudio è dunque Gualtieri è stato costretto a chiudere il TMB di Rocca Cincia? A quanto pare sì, è quello che è emerso durante la trasmissione di Extra quando abbiamo avuto ospite, proprio per commentare questa data storica, il 3 aprile 2023 alle ore 18 si sono spente le attività del TMB di Rocca Cincia. Noi avevamo ospite Nicola Franco che è il presidente del sesto municipio che è là dove sorge proprio questo impianto che da anni voi sapete è al centro delle proteste da parte dei cittadini per gli odori che si sentono, per l'impatto che ha sul traffico, il fatto che lì arrivino tutti i camion di Ama. Ebbene, che cosa ha detto Franco? Che in realtà sarebbe stata Ama stessa a comunitare de'imperio, cioè a chiedere proprio che l'amministrazione comunale chiudesse subito le attività perché non rispetterebbero i parametri relativi ai valori odorigeni tradotto dal burocratese, significa proprio i parametri che misurano il livello di miasmi, di puzza, scusate l'espressione, che si sentono in quella zona. Ama avrebbe di fatto usato per sollecitare questo intervento che non a caso, attenzione, contenuti in un'ordinanza di salute pubblica che Gualtieri ha firmato come commissario del governo sull'emergenza rifiuti e non come primo cittadino, avrebbero citato dei dati di una nuova centralina che da alcuni mesi è stata installata a pochi metri dal PMB, mentre precedentemente c'era una centralina che distava oltre un chilometro e mezzo dal luogo dove vengono effettuate queste attività di smaltimento e che dava dei valori nella norma. Secondo Nicola Franco, che è stato colui che ha sollecitato l'installazione di una nuova centralina che è controllata da ARPA, quindi i dati sono ufficiali, sono i dati dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, quell'impianto non rispetterebbe i parametri. E adesso vi facciamo sentire proprio un passaggio delle parole di Franco perché stiamo parlando di un impatto molto forte sull'ambiente, oltre che naturalmente sulla possibilità di convivere con questa struttura a pochi metri dalle case. Sentite Franco. Questa amministrazione municipale che nessun giornale ha citato, che il sindaco non ha nominato, che nessun consigliere comunale, tutti pronti a prendersi meriti, ma nessuno ha raccontato la verità. Che cosa è accaduto? E qui io ho tutti i documenti, se volete li possiamo anche far vedere, io ve li mando e voi farete come testimoni. A maggio del 2022, mettendo per conoscenza il presidente Zingaretti, il sindaco Gualtieri, tutti, e ho messo sempre a conoscenza, ho richiesto ad Arpa una centralina di rilevamento, non dove è stata messa in passato, ma davanti a quell'impianto, perché sapevamo tutti che i dati erano falsati. È iniziato un braccio di ferro con Arpa, dove io ho detto ad Arpa fatemi vedere dove è scritto nella normativa che deve essere rifornita con l'energia solo su un bene pubblico. A quel punto sono stato accontentato e grazie alla collaborazione con i comitati di quartiere e associazioni l'abbiamo messa su via di Roccacincia a 10 metri dall'ingresso di quell'impianto. Ebbene, 40 giorni è stata lì, mi sono arrivati i dati il 20 settembre 2022, dopo 40 giorni, perché abbiamo iniziato ai primi di giugno fino al 31 luglio. E sapete che cosa è uscito fuori? Che per ben 28 giorni su 40 si sono superati i limiti massimi, quando la normativa nazionale prevede che al massimo possano essere superati 28 giorni su 365, quindi significa 10 volte i valori superiori. A quel punto il Presidente del Municipio, che aveva richiesto i valori che gli sono stati forniti ed erano dati allarmati, non ha fatto altro che andare in procura e depositare un esposto che è partito il 23 settembre 2022. Di questo esposto, compresi i dati e le rievazioni fatti da Arpalazzo, ripeto, non è una società privata ma è pubblica, io ne ho mandato per conoscenza una copia all'allora Presidente Zingaretti e l'altra al Sindaco Gualtieri. Benissimo, silenzio assoluto. Adesso dopo 180 giorni i tecnici di Ama e non il Sindaco, perché lo dobbiamo dire, praticamente dicono ufficialmente che quell'impianto andava chiuso, lo hanno chiuso perché da lunedì alle 18 quell'impianto è chiuso, dopodiché il Sindaco dopo una mattinata di silenzio assoluto se ne uscì dopo questa cosa in Consiglio Comunale. Ripeto, contentissimi perché lì finisce una parte che ha creato problemi al territorio e noi ne siamo felicissimi, noi alle 18 andremo a festeggiare questa prima parte, però noi siamo pieni di dubbi. Io adesso vorrei dire al Sindaco, innanzitutto facciamo una corretta informazione perché poi generiamo false aspettative ai nostri cittadini, perché se tu dici Roccacencia chiuderà per sempre, io aspetto che lì verrà demolito tutto e ci facciamo un campione. Allora queste dunque le parole di Nicola Franco, Presidente del Sesto Municipio di Roma, avete capito, quindi lui dice, è stata ama a chiedere a Gualtieri di chiudere subito l'attività del TMB, non è stata una scelta politica come invece il primo cittadino ha detto in Consiglio Comunale. Poi oggi noi speriamo in trasmissione di poter parlare di nuovo con Franco che nel frattempo dovrebbe riuscire a incontrare Gualtieri per avere maggiori dettagli a riguardo. Claudio, in attesa di capire se dunque la chiusura di questo impianto non sia stata una scelta politica come rivendicato con orgoglio da Gualtieri, ma una scelta imposta per motivi sanitari, ci occupiamo ora di quello che accade in questo contesto, perché i sindacati si sono già detti particolarmente preoccupati per questa situazione. Davvero si rischia una nuova paralisi della raccolta rifiuti a Roma? Guarda, la domanda noi l'abbiamo girata pari pari a Roberto Scacchi, che sempre ieri sera era stato nostro ospite in apertura della puntata di Estra di cui stiamo commentando le rivelazioni, il numero uno di Lega Ambiente dice intanto a che cosa serviva e a cosa continuerà a servire questo TMB, ma soprattutto ci dice per quale motivo adesso il sistema dei rifiuti rischia di andare in crisi. Lo ascoltiamo. Il TMB è un impianto non di rigenerazione di materia prima o seconda, non avviene lì una trasformazione degli scarti di qualcuna delle frazioni in nuova materia da poter mettere in commercio. È un impianto che potremmo definire della logistica, dove si va a separare ulteriormente un po' di frazione organica, plastica e vetri dall'indifferenziato, dove dovrebbe entrare indifferenziato, ne dovrebbe uscire un po' di meno, però comunque quello che esce va trattato ancora altrove. Quindi è uno dei luoghi del passaggio dei rifiuti soprattutto indifferenziati a Roma. È giusto immaginare che man mano si possano andare a dismettere i trattamenti meccanici biologici perché ci dotiamo di impiantistica più moderna, però la follia è che noi dismettiamo un ulteriore impianto. Roma rimane senza nessun impianto, né di trasformazione, né di passaggio, né di logistica, nessun impianto e che cosa dobbiamo fare con i nostri rifiuti? Non abbiamo fatto sparire la produzione di rifiuti. Nella capitale si producono ancora 4.700 tonnellate al giorno di rifiuti. Di questi, siccome non abbiamo fatto neanche un più 1 in percentuale di raccolto differenziato, di questi 2.700 tonnellate al giorno sono indifferenziato, di tutto questo tutto ciò peserà su altri territori semplicemente. Basta andare un po' più a est, in un territorio che è quello del comune di Guidonia, dove si paventa evidentemente il passaggio di gran parte dell'indifferenziato di Roma all'interno di un TMB che sta dentro un'area parco, che sta all'interno di un'area dove c'è una discarica chiusa e da tombare, dove la collettività chiaramente dovrà sopportare tutto questo. Di certo l'immagine che si dà delle scelte che si fanno a Roma è veramente incredibile. Si sceglie di allontanare ogni impiantistica dalla città, deresponsabilizzando qualsiasi territorio e continuando ad andare a pesare su altri territori. Queste dunque le dichiarazioni del Presidente di Lega Ambiente Lazio, Roberto Scacchi, ospite ieri sera ad Extra con il nostro direttore Claudio Micalizio. Dunque Claudio, mi sembra di capire che ci aspettano dei forti mesi di passione per quanto riguarda i rifiuti a Roma. Sì, perché naturalmente noi cediamo la possibilità all'amministrazione comunale di intervenire e smentire anche quanto è stato dichiarato dai nostri ospiti in trasmissione. È evidente che se fosse vero che è stato Ama chiedere d'urgenza la chiusura del TMB si spiegherebbe per quale motivo l'amministrazione comunale abbia deciso di privarsi dell'unico impianto operativo sul territorio urbano prima di aver attuato il nuovo inceneritore e prima di aver dato struttura a un piano rifiuti che è soltanto sulla carta. E sentivate quello che dice, diceva il Presidente di Lega Ambiente, o si smette di produrre i rifiuti o si potenzia la raccolta differenziata, ma nel frattempo i rifiuti che oggi venivano conferiti nel TMB di Rocca Cencia e che in parte non arriveranno più, dovranno andare da qualche altra parte e lì finirà che a pagare saranno i territori limitrofi che noi sappiamo non sono contenti di continuare a farsi carico dei rifiuti di Roma. No, infatti. Bene, dunque, allora staremo a vedere cosa succede. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo ti ringrazio, Claudio, per averci fatto questa panoramica e ci rivediamo sempre su questi schermi. Noi diamo appuntamento ai nostri telespettatori questa sera alle 21 con un nuovo appuntamento con Extra. Alle ore 21, non so ancora di cosa parleremo, perché come tu sai, Elisa, i nostri programmi nascono sull'impronta dell'attualità. Speriamo di trovare argomenti interessanti. Ovviamente terremo sempre d'occhio la vicenda del TMB di Rocca Cencia. Buon proseguimento a tutti e buon lavoro a te. Grazie, Claudio. A presto. Ci fermiamo nuovamente per un minuto di pausa. Restate con noi perché tra pochissimo il consuato appuntamento del giovedì, l'approfondimento sulle notizie del territorio. A tra poco. Bentornati a Roma di giorno, seconda parte del nostro spazio dedicato all'approfondimento giornalistico sulle principali notizie di attualità e cronaca di Roma e di intorni. E proprio nei dintorni andiamo con il consueto appuntamento del giovedì con l'approfondimento sulle più importanti e principali notizie che riguardano non proprio Roma, ma il Lazio in generale, in questo caso specifico il sud del Lazio. Do il mio benvenuto, come tutti i giovedì, all'esperto che mi aiuterà ad approfondire appunto queste notizie, Giuseppe Mallozzi, direttore di Tempo Reale Info. Buongiorno Giuseppe, ben trovato. Buongiorno Elisa. Allora, come ogni giovedì partiamo sempre dalle notizie più importanti, dunque dalla cronaca, perché so che si sono concluse le indagini preliminari della Procura di Latina nei confronti della cooperativa Caribù e consorzio AID ed è partito il contrattacco da parte degli avvocati della difesa. Sì, tra l'altro è un tema questo molto sentito anche negli ultimi tempi, a causa dell'emergenza sbarchi e l'immigrazione che è chiaramente un tema sentito in tutta Italia, in particolare nel territorio puntino. In particolare la cooperativa Caribù, lo ricordo, è una cooperativa che attualmente è stata messa in liquidazione con un decreto specifico da parte del Ministero dell'Interno e riguarda la gestione illegale dei fondi che sono stati assegnati appunto dal Ministero a questa cooperativa e anche poi al consorzio AID. In particolare la cooperativa Caribù si sono registrati dei comportamenti che riguardavano da una parte la gestione degli immigrati che erano stati lasciati senza cibo, senza acqua e dall'altra sono stati realizzati dei debiti per circa 6 milioni, quindi 6 milioni di evasione fiscale, per cui è stata aperta l'inchiesta. Recentemente si sono concluse le indagini preliminari che porteranno probabilmente a rinvio a giudizio di tutte le persone indagate. Per quanto riguarda le persone indagate, una di queste è Liliana Murecate, l'Avvocato ha annunciato che contesta i vari danni erariali, in caso di questa assistita sono di 13 mila euro, appunto vengono comunque rigettate al mittente tali accuse. Quindi vedremo al momento che cosa succederà in sede di richieste di rinvio a giudizio. Certo, quindi dobbiamo aspettare come sempre ulteriori aggiornamenti. Passiamo anche ad un'altra questione, sempre legata però al territorio di Latina e che riguarda il calcio e l'urbanistica, perché so che è stata presentata una indagine da parte della Corte dei Conti. Sì, la Corte dei Conti, la Procura regionale in particolare, sta svolgendo alcune indagini proprio al Comune di Vinturno che riguardano sempre in questo caso ipotesi di danni erariali ai danni di enti pubblici. In questo caso si tratta del Comune di Latina. Sono due le inchieste che sono sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti. Da una parte il Latina Calcio, che lo ricordo, beneficiò di diversi finanziamenti che furono utilizzati in maniera illecita e dall'altra invece il settore dell'urbanistica dove appunto sono state evidenziate alcune anomalie, in particolare sono degli adempimenti che vennero fatte per alcune licenze emesse. Si parla di cifre di circa 400 mila Euro, quindi insomma un importo anche abbastanza alto, ampio. In questo caso chiaramente il commissario straordinario Carmine Valente ha firmato una legge libera in cui chiaramente ha espresso l'interesse dell'ente a essere rappresentato in giudizio come in qualità di amministrazione danneggiata da questi fatti. Quindi si tratta di una sorta di costituzione di parte civile, chiaramente in sede di Corte dei Conti. Sì, sicuramente fa specie questa cosa perché di solito magari la parte politica non si costituisce parte civile anche perché spesso e volentieri sono le stesse amministrazioni che sono coinvolte. In questo caso il commissario prefettizio è comunque esterno alle dinamiche politiche per cui ha deciso di rappresentare l'ente in eventuali fasi di giudizio. Però non voglio soltanto farti una domanda in qualità di esperto appunto di notizie, ma voglio anche farti una domanda personale. Che idea ti sei fatto tu Giuseppe di tutta questa situazione? Beh, sono inchieste molto cavillose perché sono complesse, in particolare Latina Calcio ancora ad oggi è in itinere l'inchiesta in sede penale per cui a livello poi civile e poi quando si tratta di conti comunque sono indagini lunghe da analizzare. Spesso si risolvono anche con un importo che magari era partito in maniera notevole e poi si è ridotto stradafacendo. Quindi insomma è tutto da valutare, ripeto, in due settori che sono quello penale e poi quello civilistico. Certo, in tempi che ovviamente sappiamo e non sono affatto brevi per quanto riguarda la giustizia italiana o comunque episodi di questo tipo. Passiamo invece alla... Ma poi c'è qua magari arriva anche la prescrizione, prescrizione, insomma, proprio perché la giustizia dell'anno è molto lunga. Infatti, lo sappiamo benissimo. Dalla cronaca passiamo invece alla politica, perché le primarie del centrosinistra sono state vinte da Damiano Coletta che sarà candidato sindaco per la terza volta? Sì, quasi a sorpresa possiamo dire, perché si dava per favorita Daniela Fiore, che era la candidata presentata appunto dal Partito Democratico. Ricordo Daniela Fiore comunque è una consigliera con una lusciente, insomma anche con un bel po' di voti, un bel pacchetto di voti. Per cui è stata un po' a sorpresa questa vittoria di Damiano Coletta che comunque premia evidentemente la sua linea politica che lo ha già visto due volte sindaco, una volta e mezza sindaco, visto che comunque il suo secondo mandato è finito abbastanza presto. Lo ricordo per questioni che riguardavano appunto la tenuta dalla maggioranza, si era verificata la cosiddetta natrazoppa perché non aveva la maggioranza dei consiglieri, per cui poi l'anno scorso i consiglieri di minoranza, in realtà di maggioranza del centro-destra lo hanno sfiduciato. Quindi sarà lui a rappresentare lo schieramento del centro-sinistra che avrà oltre Latina Bene Comune, che è la lista di riferimento proprio del dottor Coletta, il Partito Democratico e ne si aggiunge anche il Movimento 5 Stelle che è aderito appunto a tale coalizione. Chiaramente ci saranno anche altre liste civiche che si formeranno strada facendo. Non ci sarà, almeno per il momento, non sarà della partita almeno per il momento il terzo polo che dovrebbe puntare su un proprio candidato a sindaco, Claudio Gavillucci, a meno che non ci saranno delle decisioni dell'ultimo minuto. Per cui al momento quindi abbiamo da una parte Coletta, Damiano Coletta per il centro-sinistra, Matilde Celentano che già si è presentata la settimana scorsa come candidata del centro-destra, la quale chiaramente non ha fatto mancare gli auguri al suo concorrente. E poi vedremo se ci saranno altri sfidanti. So che tu hai degli aggiornamenti anche per quanto riguarda altri comuni. Sì, allora per quanto riguarda Terracina, rispetto alla settimana scorsa abbiamo già due novità perché sia il centro-destra che il centro-sinistra, in maniera anche rapida, hanno fatto anche già le loro presentazioni. Quindi da una parte abbiamo Francesco Giannetti che rappresenta il centro-destra, proposto da Fratelli d'Italia e dalla Lega. Non è della partita, almeno per il momento, Forza Italia, diciamo, nel senso che non era lo sfidante che volevano proporre loro. Tra l'altro Giannetti, lo ricordo, è stato anche in un'amministrazione in precedenza che ha rappresentato l'assessorato all'urbanistica. Lui è un architetto. Mentre nel centro-sinistra invece il Partito Democratico, in un momento di 5 Stelle, propongono invece Francesco Di Sauro, che è membro del direttivo della Fondazione Città di Terracina. Per quanto riguarda invece altri comuni, si è sciolta anche la situazione su Rocca Gorgale, dove erano state proposte le primarie, che poi non si sono più svolte. In quanto l'ex sindaco Carla Misci si è ritirata, diciamo che ha anche pubblicato una nota abbastanza dura con il partito, dicendo che non c'erano le condizioni politiche nel Partito Democratico per la sua candidatura, ma soprattutto per le primarie. Per cui è rimasto l'altro sfidante, Francesco Scacchetti, che è ex segretario comunale di Rocca Gorgale, e quindi sarà lui a rappresentare il centro-sinistra alle prossime elezioni. Bene, dunque anche in questo caso dobbiamo aspettare comunque ulteriori aggiornamenti, perché ricordiamo che le elezioni saranno il 14 e il 15 maggio prossimo, quindi manca poco più di un mese, no? Sì, diciamo che in questi giorni, in queste settimane, si trova a fare anche presto, anche in altri comuni, dove, lo ricordo, gli altri comuni che vanno al voto sono Aprilia, dove ci sono già i primi nomi, Bastiano, Campodimele, Lenola, Sonnino e Terracina, chiaramente Rocca Gorgale e Latina, che già ho detto. Che di voi abbiamo già parlato, certo. Sì, tra l'altro sono comuni dove ancora non si conoscono gli sfidanti, tranne qualcuno, per esempio, Lenola dovrebbe, anche se non ha ancora sciolto la riserva, il sindaco Fernando Magnafico dovrebbe riproporsi. Certo. Bene, dunque, allora, noi ci risentiamo nuovamente giovedì prossimo. Giuseppe, così tu ci aggiornerai se ci sono, appunto, ulteriori novità, sempre per quanto riguarda la politica, la cronaca, ma anche l'attualità. Nel frattempo ti ringrazio per averci raccontato, appunto, tutti questi dettagli. Ci risentiamo nuovamente giovedì prossimo. Va benissimo, buona giornata. Grazie, anche a te. Bene, ci fermiamo nuovamente per un minuto di pausa. Torniamo tra pochissimi istanti per parlarvi di un progetto molto particolare presentato dall'AMOD. Restate con noi a tra pochissimo. Bentornati a Roma di giorno, ultima parte del nostro spazio dedicato all'approfondimento giornalistico sulle principali notizie di attualità e cronaca della Capitale. Il progetto di cui vi parlavamo fino a un minuto fa prende il nome di Arrivederci Berlinguer, una coproduzione tra Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Cinema Zero, in collaborazione con Mamuto Film. Si tratta di un progetto che vedrà la sua prima uscita precisamente a Pordenone, per poi arrivare a Roma precisamente il 6 maggio. Un'iniziativa interamente dedicata al riuso creativo delle immagini d'archivo è stato scritto, ideata e prodotta dall'AMOD in collaborazione con Archivio Luce e con il sostegno di MIC, Direzione Generale Cinema Audiovisivo e di altre istituzioni pubbliche e private. Facciamoci raccontare tutti i dettagli di questo progetto davvero incredibile su un personaggio storico della nostra Italia, quindi do il mio benvenuto a uno dei registi di Arrivederci Berlinguer, Michele Mellara. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per la sua disponibilità. Non c'è problema, mi fa molto piacere. Come ricordavi, la regia l'ho curata insieme ad Alessandro Rossi, che è la persona con la quale collaboro da oltre 20 anni, scrivendo e dirigendo principalmente cinema documentario. Il film in realtà, Rivederci Berlinguer, ha avuto la sua prima domenica, il Pordenone Dog Festival, dove effettivamente è andato molto molto bene, la Sara era aggredita, ha fatto bene a correggermi allora. Ed è effettivamente stato molto emozionante perché il pubblico ha accolto questo film documentario con grande partecipazione e con grande emozione, effettivamente. Tanto è vero che alla fine della proiezione nessuno si alzava dalla propria poltrona e il direttore del festival ha detto guardate che il festival è finito, questa era l'ultima proiezione, bisogna che gli impugniamo la sala. Per dire che c'era molto coinvolgimento da parte del pubblico. C'è un messaggio particolare che voi avete voluto trasmettere, lei e Alessandro Rossi, nel realizzare questo cineconcerto, così è corretto definirlo? Sì, è un cineconcerto perché è un documentario di 50 minuti che parte principalmente utilizzando il materiale di un bellissimo film, documentario realizzato durante i funerali di Berne, quindi nell'84, dai maggiori cineasti dell'epoca. È una regia collettiva firmata da Bertolucci, Lizzani, Ponte Corvo, Scola e tanti altri. Ecco, questo è stato il film dal quale siamo partiti per realizzare il nostro documentario e combinandolo con tanti materiali provenienti dall'amod, dall'archivio del movimento operario democratico, materiali filmici con cernetti berlinguer che ritraggono berlinguer in varie situazioni, comizi, rapporti con la base del pc di allora e tanti altri momenti. Dicevo un cineconcerto perché perché abbiamo collaborato con massimo zamboni massimo zamboni stato tra i fondatori dei ccp da vari anni si muove anche in solitaria come solista e ha composto ed eseguito le musiche dal vivo e sarà lo stesso poi il 6 di maggio anche a Roma. Quindi, vuol dire, è un film, un cineconcerto che emoziona molto anche attraverso la partitura musicale di massimo. Certo, assolutamente. Quanto avete impiegato a realizzarlo? Immagino ci sia voluto insomma diverso tempo e soprattutto diverso impegno perché recuperare tante immagini insomma è un lavoro importante. Guarda, siamo andati più veloci del previsto perché l'amode è stato molto efficiente e rispetto alla nostra ricerca ci ha fornito immediatamente tutte le immagini che a noi interessava insomma bagliare e consultare per poi inserirne una parte all'interno del all'interno del film documentario. Il lavoro è durato più o meno quattro mesi diciamo a Balzi ed è un ritratto di berlinguer insomma molto toccante perché si apre con l'ultimo comizio che berlinguer tenne la padova e e poi al funerale l'ultimo comizio per cui siete male morì ovviamente tre giorni dopo si svolse poi funerale a roma e bagno di folla oceanica arrivò a roma appunto per partecipare ai funzionali di berlinguer ed è il leader politico nella storia della nostra storia della repubblica che ha avuto il funerale più partecipato in assoluto stiamo parlando di un milione e mezzo di persone provenienti a roma da tutta italia e questo è molto toccante perché effettivamente era un leader che era capace di parlare a tutti e vari vari latitudini sociali sia di censo che di reddito che di cultura e questo traspare moltissimo all'interno del film quale affetto infatti io penso che voi avete cercato se non altro di mettere in luce l'aspetto un po privato intimo di berlinguer mi corregga se sbaglio è così avremmo voluto farlo ma in realtà in quegli anni i come dire i leader politici del pc venivano ripresi si riprendeva principalmente in pellicola si è parlato della fine degli anni 70 dell'inizio degli anni 80 inizio tanta timidamente si affaccia si cominciano a usare altri supporti e quindi i politici in realtà venivano ripresi principalmente soprattutto con il pc all'interno dei momenti dei momenti pubblici ufficiali poi ovviamente c'è un berlinguer anche sotto un certo aspetto che mette in scena il suo lato più privato ironico e anche impatico con la con la gente c'è un momento in cui benigni i famosi momenti in cui benigni lo prende in braccio praticamente l'abbiamo inserito all'interno del documentario così come altri momenti in cui berlinguer in sezione parla con i compagni del pc della sezione e discute con loro anche in un modo molto caloroso i problemi e i temi d'attualità bene e quali sono i suoi prossimi progetti dopo il cineconcerto del 6 maggio a roma lei e magari alessandro rossi state già lavorando a qualche altro progetto interessante di cui magari vuole parlarcene assolutamente sì nel senso che stiamo già da tempo sviluppando un documentario sempre d'archivio su un altro personaggio stavolta vivente in un altro ambito paolo freso che è un grandissimo trombettista riconosciuto a livello internazionale ed è un ritratto del festival e freso ha fondato e continua a dirigere in sardegna a berchina 35 anni di festival in cui sono passati i più grandi musicisti della scena jazz a livello internazionale ma non solo perché è un festival nel quale si dà spazio anche la musica popolare alla musica tradizionale folklorica la musica pop una dimensione anche di contaminazione felice tra i generi e quindi stiamo lavorando a questo film che ha invece una molle d'archivio straordinaria cioè immensa perché è stato ripreso per tanti anni da un altro regista col quale confermiamo la regia già franco capito e quindi siamo su questo progetto che speriamo veda la luce tra l'autunno e l'inverno quest'anno certo e vogliamo dare giusto qualche riferimento ai nostri telespettatori che magari volessero assistere a questo cine concerto a roma visto che questo programma si chiama roma di giorno quindi noi cerchiamo sempre di dare tutti gli appuntamenti più importanti per quanto riguarda la cultura tutte le informazioni si potranno trovare sul sito dell'amod amod a a m o di archivio del movimento operaio democratico sarà una pagina del sito web dedicata appunto al festival perché questo questa proiezione avverrà all'interno della prima edizione del festival curato dall'amod e lì si potranno trovare tutte le informazioni rispetto alla serata del 6 maggio bene assolutamente ricordiamo e arrivederci berlinguer il cine concerto che è stato coprodotto da archivio audiovisivo del movimento operaio democratico e cinema zero in collaborazione con mammut film e che vede la regia appunto di michele mellara e alessandro rossi voglio ringraziarla dottor mellara per questo suo intervento di oggi invitiamo tutti i nostri telespettatori a partecipare appunto il 6 maggio alla proiezione del cine concerto su berlinguer grazie davvero grazie a voi grazie a voi a presto bene anche per oggi il nostro tempo a disposizione termina noi però torniamo nuovamente domani con un nuovo appuntamento di roma di giorno nuovi spunti nuove notizie soprattutto nuovi modi per riflettere sempre sulle notizie che vi proponiamo vi ringraziamo per averci seguito vi ricordiamo che andiamo anche in replica alle 18 sempre su questo canale il canale 14 e che potete trovare tutte le repliche di questo spazio sul sito di radio roma punto it grazie per averci seguito a domani roma di giorno le notizie della capitale con elisa mariani